Amore, che è? Stellina, stella, la stellina, quella stellina, coccoluna, ma tu sei una coccoluna, come si fa a ronda mare? Controllare ed educare, due uomini indifesi, presi di mira proprio perché deboli, Antonio Stano è morto, Fiorello vive tuttora nel terrore, il branco è in attesa del processo che inizierà il 20 settembre prossimo, questi ragazzi che sono in caccia, cosa rischiano? Sono accusati sostanzialmente di tortura, è atteso che è stato loro contestato anche l'aggravante della morte causata...